Siamo alla Casa degli Angeli insieme ad alcuni volontari che stanno preparando qui un pranzo di capodanno per i profughi ospiti del centro d'accoglienza. Lucia Gianfrancesco è una di queste volontarie che ha deciso di trascorrere un capodanno all'insegna della solidarietà. Sì, perché credo che il tran tran dei giorni passati, visto che lavoro tutta la settimana, mi fa capire quanto spreco ci sia in giro. Io ho un'attività commerciale e vedo quanti sprechi si fanno quando poi c'è gente che non ha nulla e non ha nulla anche a livello affettivo. Forse noi non riusciamo a dargli l'affetto di cui loro hanno bisogno, però per noi che veniamo qua potergli dare un pasto, un pranzo caldo in un giorno come questo è emozionante per noi, anche gratificante, ma non perché dobbiamo farci vedere chissà da chi, perché è gratificante poter dare, perché oggi si dà poco agli altri, ma affettivamente, ma anche materialmente. Ma molte volte devo dire che non si sa nemmeno come fare per dare, perché non sempre si sale dell'esistenza di certe strutture o di certi sentieri da poter percorrere per poter poi arrivare a fare questo. Io ci sono arrivata da poco grazie a delle amicizie, grazie a del vissuto che ho avuto e devo dire che per me questa è solo la seconda volta che vengo qua, ma quando mi è stato proposto sono partita in quarta, cioè non ho pensato né che dovevo lasciare la famiglia né altro. Loro lo sanno e capiscono, perché poi fondamentalmente in ognuno di noi c'è del buono, poi c'è chi lo butta fuori e chi magari lo tiene dentro e agisce diversamente. dare qualcosa a questa gente che comunque è fuggita non per volontà, perché noi diciamo ma perché non si stanno a casa loro? Ognuno vorrebbe stare a casa loro, se sta bene, a casa sua, se sta bene. Probabilmente loro non stanno bene. Cercavano in Italia forse la speranza, che purtroppo non c'è nemmeno più per noi, però se nel nostro piccolo possiamo dare un segno di speranza, di gioia, di felicità, di serenità anche solo per un giorno a queste persone, allora ben venga che riusciamo a farlo. Noi siamo il gruppo del Castellone di Boiano, ma ci sono tanti altri gruppi di volontariato che vengono qui tutti i giorni, non so, 36 credo ne siano, e tutti i giorni prestano la loro opera. Ogni volta ci alterniamo con le persone, non siamo sempre gli stessi, diamo spazio a tutti. Quindi faccio anche l'appello che chiunque voglia può rivolgersi o a Don Franco Donofrio o a Padre Adriano per poter intervenire e fare questa esperienza, che io consiglio a tutti, perché è di un valore umano, non so come dirlo, cioè io mi sento emozionata anche a fare questa intervista perché non è perché è per testimoniare che si può dare, si può dare, testimoniare è anche agire, testimoniare è aiutare ed invogliare. È un appello sinceramente lo faccio a tanti giovani, purtroppo ce ne vengono molti pochi qua, pochi pochi pochi. Oggi con noi c'è un ragazzo che è andato al Veglione alle 7 e stamattina sta qua. Quindi vuol dire che questi giovani non sono poi così, come dire, poveri di amore. Lui è qui con tutta la sua famiglia, io sono qui con mia mamma, con un gruppo di amici che stimo e amo moltissimo, anche se noi fuori di qua non ci vediamo mai, o quasi mai. E niente, è questo. Io dico ai giovani fatela questa esperienza, anche solo una volta. Vedrete che vi piacerà ancora di più farla. Che menù avete preparato per oggi? Cosa ha riservato questo gruppo di volontari di Castellone? Allora, oggi c'è come primo pasta al forno, secondo polpettone, con ripieno di uova sode, tutte del Castellone le uova, poi abbiamo l'insalata, frutta, dolce, un bel panettone. Tutto questo è offerto comunque da terzi che propongono. E qui chiunque vuole può donare qualsiasi cosa, perché qui veramente non viene buttato nulla. Il recupero è totale, dal pane ai dolci, a tutto, bevande, qualsiasi cosa. Se qualcuno è interessato e vuole, può anche donare roba a lunga scadenza. Tutto va... qui accettano tutto, perché ogni giorno c'è gente che viene a pranzare qua. Oggi ce ne saranno forse 80 oggi a pranzo. E credo lo stesso anche, più o meno anche stasera. E non so, questo... è una bellissima esperienza, fatela. Allora, grazie Lucia per la tua testimonianza. E anche dalla Casa degli Angeli auguri per un felice anno a tutti i telespettatori.